Innovazione a Boston e innovazione anche qui in studio. Allora parliamo di idee geniali, quelle che ti cambiano effettivamente la vita. Ne sa qualcosa Giovanni Delisi, imprenditore palermitano, che è il caso davvero di dirlo, non si è lasciato sfuggire il treno giusto e potrebbe rivoluzionare il trasporto ferroviario di tutto il mondo. Giovanni, benvenuto. Grazie a te Alessio Domenico. Allora, un breve incipit, brevissimo. Tu hai vinto il titolo di Startup Italiano dell'anno nel 2017. Lo ha decretato una giuria composta da oltre 100 investitori rappresentanti di aziende. Hai ottenuto una commessa di 75 milioni di dollari dagli Stati Uniti. Il tutto per, e qua c'è un po' un contrasto, il tutto per una semplice traversina ferroviaria come quella che stiamo per vedere. Allora, è tutto vero? Tutto vero, semplice nel presentarlo, difficile nel realizzarlo. Ovviamente. Che cosa ha di speciale? La traversa Green Rail è una traversa che nasce con un inner core, quindi una struttura interna in calcestruzzo armato precompresso, quindi con le stesse medesime caratteristiche delle attuali traversine che compongono i binari dei treni. Anticamente erano in legno, oggi il 90% del mercato è rappresentato dalle traverse in calcestruzzo. Green Rail ha il suo inner core in calcestruzzo armato precompresso, esternamente una miscela di plastica e gomma riciclata, che consente di risolvere tutte le problematiche e tecniche delle traversine in calcestruzzo, e in più contribuire notevolmente al riciclo sia di plastica che di pneumatici. Considera che ogni chilometro di linea ferroviaria costruita con traversine Green Rail consente di riciclare 35 tonnellate fra plastica e pneumatici. Formidabile. Allora, la storia è veramente bella, magnifica. Partiamo dall'inizio. Tu hai lasciato presto gli studi per lavorare e cercare di fare subito impresa. Qual è stato il lavoro che ti sei messo a fare? Io a 19 anni studiavo giudizia di spruenza e mi guardavo già oltre i dieci anni più in là e vedevo che fare l'avvocato non era quello che volevo fare. Volevo fare l'imprenditore e quindi decido di lasciare l'università. Non che l'università non serva, è fondamentale per chi decide di fare, ad esempio, il medico, è chiaro e fondamentale. Per chi vuole fare impresa, invece, già sapevo e percepivo che era necessario cominciare a lavorare. All'epoca ho cominciato da operaio nei cantieri di armamento ferroviario. L'armamento ferroviario è quella classe dell'edilizia che costruisce e fa le manutenzioni delle linee ferroviarie. Quindi non costruivo le traversine, ma le montavo in opera. Quindi l'expertise nel settore deriva proprio dall'inizio della mia attività da operaio nei cantieri. Ed è lì che hai capito che sarebbe stata utile una traversina di materiale diverso. Assolutamente sì, quell'esperienza ovviamente mi ha dato le basi per poter ragionare un prodotto così innovativo e così disruptive nel settore. Il settore ferroviario è un settore dove le innovazioni sono molto lente ad entrare. Considera che la traversina in calcestruzzo è entrata nel mercato nei primi del Novecento. Nell'Ottocento le prime linee ferroviarie erano costruite con le traversine in legno e tuttora, ancora oggi, si costruiscono determinate linee con traversine in legno. Quindi sicuramente capivo che era un mercato dove si poteva creare innovazione e portare dei prodotti innovativi. E il tutto poi nasce dall'esperienza e dall'aver scoperto che già nel mondo si cominciava a guardare alle traversine ecosostenibili e si producevano delle traversine in plastica. Queste traversine in plastica che, ricordo, avevo scovato negli Stati Uniti, in India e in Cina, però avevano un problema tecnico. Potevano essere sostituite solamente alle vecchie traversine in legno. Ah, quindi dove c'era una linea con traversine in legno si poteva mettere la plastica. Dove c'era il calcestruzzo, no. E allora quindi io lì capisco che c'era un margine da poter colmare, un gap da poter colmare e quindi comincio a interessarmi al mondo delle traversine. Ripeto, io non costruivo le traversine, quindi non avevo nessun know-how. Ho cominciato a fare ricerca e a studiare. Sei esperto di chimica? Non sono esperto di chimica, ma ho studiato varie tipologie di prodotti che erano composti da plastica e gomma riciclata. Ti si è accesa una lampadina? Mi si è accesa una lampadina. Ricordo ancora oggi il momento in cui ho capito che il prodotto era un prodotto vincente. Quello è stato il momento in cui ho deciso di mettere in moto la mia start-up e dico sempre, ho messo in moto l'azienda perché all'epoca di start-up non se ne parlava. O meglio, era la fase iniziale del boom delle start-up. Quindi anche piacevolmente mi sono trovato nel momento giusto, al posto giusto, col prodotto giusto, considerando quelli che sono i megatrend mondiali ovvero il trasporto ferroviario e il trasporto più in forte crescita nei prossimi anni nel settore dei trasporti in generale e l'ecosostenibilità e la green economy e il futuro. Certo, sono il futuro, è vero. È vero che tempo fa hai rifiutato un'offerta di un milione di euro. Eri così sicuro del successo della tua idea che un milione di euro non sarebbe stato abbastanza? Sono sempre stato sicuro del successo della mia idea e all'epoca quando in diretta televisiva mi proposero un milione per il 20% rifiutai molto serenamente. Anche perché in quella fase non avevamo bisogno soltanto del supporto finanziario ma il supporto finanziario doveva derivare se doveva derivare dai investitori doveva derivare dai investitori che portassero un quinto in più. Quindi investitori magari con un know-how industriale e internazionale. Ed è da loro che sono arrivati poi i 75 miliardi? No. Scusami, 75 milioni, chiedo scusa. 75 milioni di euro no. Sono arrivati tramite un gruppo di imprenditori e investitori statunitensi che ci seguono e ci conoscono dal 2014. Già nel 2014 erano interessati a portare l'innovazione negli Stati Uniti e noi non eravamo pronti. Nel 2014 ancora il prodotto non esisteva eravamo soltanto una bella idea un bel progetto brevettato perché eravamo già depositati in 122. Stavo per chiederti come hai fatto a difenderla perché non eravate pronti però come dire dagli Stati Uniti arrivavano gli input io mi sarei messo baura. Guarda, il primo passo che ho fatto è stato brevettare il prodotto. Il primo anno di attività è stato dedicato esclusivamente alla progettazione insieme a un industrial designer che oggi è stato il primo collaboratore di Green Rail e tuttora oggi si occupa delle nostre progettazioni e da quel momento abbiamo cominciato subito la fase brevettuale. Inizialmente il brevetto è stato depositato a livello internazionale subito perché avevo sempre impostato già sin dall'inizio l'internazionalizzazione dell'azienda. Quanti paesi possiamo dirlo? Siamo partiti da 148 paesi poi abbiamo ridotto a 122 oggi siamo definitivi in 80 paesi. Abbiamo ridotto per una scelta strategica commerciale ovviamente avere un brevetto depositato in determinati territori dove non c'è una stabilità giuridica in alcun senso sarebbe stato solo un costo. Quindi abbiamo razionalizzato la scelta e la copertura brevettuale e oggi siamo definitivi in 80 paesi. In Italia si sono accorti di te? Qualcuno ti ha offerto commesse? Sarebbe strano se non si fossero accorti. Chiaro, sì, in Italia si sono accorti di noi soprattutto perché siamo stati fra le start-up ovviamente più premiate in questi anni abbiamo avuto un'esposizione mediatica importante anche perché la tipologia di prodotto e soprattutto la tipologia di settore è affascinante quindi è un'innovazione in un settore che è storicamente un settore consolidato sul quale non si guarda a progetti innovativi quindi abbiamo sempre scaturito una certa curiosità e a livello commerciale stiamo lavorando assolutamente l'unica cosa che mi sento di dire in Italia non siamo così tanto aperti alle innovazioni soprattutto quando andiamo in settori che ricadono nel settore pubblico però è ovvio che conoscevo bene quelle che sono le peculiarità del nostro paese e per questo il primo contratto è stato chiuso negli Stati Uniti. Una domanda più una curiosità direi hai parlato di pubblico quindi tu a 32 anni giusto? Sì Devi rapportarti con i governi perché quando parliamo anche di linea ferroviaria ovviamente si parla di pubblico non ovviamente insomma nella maggior parte dei casi le linee sono pubbliche Sì, assolutamente sì oggi i nostri interlocutori sono principalmente governi enti pubblici gestori di linee ferroviarie Ministri dei trasporti Assolutamente sì Ministri dei trasporti e uffici delegati al Ministero dei trasporti e ovviamente l'esperienza di lavoro mia nonché di tutto il team che poi è stato creato Green Rail oggi è una società che è in grado di progettare e fornire impianti produttivi in qualsiasi parte del mondo siamo in grado di progettare qualsiasi tipologia di traversa ferroviaria non esiste solo un prodotto esistono tanti prodotti nel settore ferroviario ogni linea ferroviaria ha un'esigenza particolare delle caratteristiche differenti oggi diciamo che siamo un'azienda che guarda il mercato internazionale con l'obiettivo di divenire leader nel settore Quante persone lavorano con te e le sedi? Dove sono? Solo in Italia o all'estero? Momentariamente soltanto in Italia perché siamo una società che fa progettazione e licensing della proprietà intellettuale stiamo progettando le aperture all'estero principalmente i primi paesi ovviamente Stati Uniti Middle East in Asia e nell'area euroasiatica siamo principalmente diretti verso anche l'area euroasiatica in quanto siamo stati l'unica start up italiana a essere stata selezionata per l'Expo di Astana in Kazakhstan nel 2017 e siamo anche risultati fra i 10 progetti migliori dell'Expo infatti il governo kazako sta investendo nel progetto Green Rail e con loro stiamo andando avanti in un'interlocuzione già avviata per l'apertura del primo impianto insomma tra i tanti complimenti che avrà ricevuto in questi anni ci mettiamo anche noi di community bravo davvero Giovanni bellissima idea grazie mille grazie davvero per essere stato